Musica Buon mercoledì sera, sono pronta al mio tavolo, altrettanto pronti sono gli ospiti con i quali questa sera farò il punto. Ci domanderemo, ma la manovra che è fortemente voluta da Giorgia Meloni con la legge di bilancio è concretamente servita a qualcosa oppure ha ragione l'opposizione? Andremo a fare il punto questa sera con l'editore di eltag.it Antonio Ferrante, ben ritrovato. Buonasera. Ecco qui la mia collega Federica Stea. Buonasera. Apritemi l'audio, vado a salutare Merigo De Peppo, ben ritrovato Merigo. Ben trovato a te e ai tuoi non pochi spettatori, non pochi e meritati. Grazie direttore, grazie anche al mio collega Giuseppe Paccione, eccolo qui. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Allora, focus sulla legge di bilancio, la manovra di Giorgia Meloni. Andiamo sulla ricostruzione. Questa è una legge di bilancio che è un inno all'evasione fiscale, sia sul tema del contante, sia sul tema del POS. È una legge di bilancio che sostanzialmente dice agli italiani che hanno sempre pagato le tasse, che sono la maggioranza, l'agenda fiscale ce la facciamo dettare da coloro che evadono il fisco. Tutti noi avremmo ovviamente preferito avere molte più risorse a disposizione, però il discorso qui non è che ci possono da una parte accusare prima volete sfasciare i conti, poi facciamo i prudenti, i responsabili per tenere i conti a posto, andando incontro alle esigenze dei nostri cittadini, addio però avreste dovuto fare molto di più. Banca d'Italia non è il professore del governo, quindi non può bocciare o promuovere. Banca d'Italia è un'autorità indipendente, importante, che rispettiamo e che esprime la sua opinione. Noi abbiamo ricevuto un mandato dagli italiani e in politica noi crediamo, in democrazia crediamo, il primato è la politica. Allora, Ferrante, vengo da lei perché ci sono alcuni degli esponenti politici di tutti i partiti che hanno appunto detto la propria, a partire da Letta che dice che questa manovra in realtà aiuterebbe moltissimo l'evasione fiscale, abbiamo sentito anche gli altri pareri. Lei di che parere è su questa storia? Parere che sono considerazioni, quelle di Letta, un po' troppo superficiali. Non si può attribuire a queste due misure il problema, la risoluzione di un problema o l'aggravamento di un problema che è l'evasione fiscale, assolutamente. Non ritengo che questo sia il problema, bisogna misurare la Meloni sui prossimi provvedimenti, quelli strutturali, quelli più importanti. Stea, l'opposizione dice che è stata una manovretta, non una vera e propria manovra, che Giorgio Meloni intanto ha assorbito i famosi 9 miliardi di draghi, ne ha previsti altri 23 fino alla fine del 2023, ma che tutto questo oggettivamente non servirà a moltissimo, considerato il periodo che sul caro energia è davvero evidente, insomma, le problematiche che stiamo vivendo. Ma io credo che questa sia una manovra fatta sicuramente in fretta e migliorabile, però dobbiamo considerare una cosa. Questa manovra ha dato una risposta immediata, stanziando risorse importanti, quasi tre quarti della manovra, per il caro energia. Il caro energia è stato un'esplosione, uno tsunami che si è abbattuto su famiglie e imprese, quindi è chiaro che il governo abbia risposto in via prioritaria a questa esigenza. Poi, per quanto riguarda il resto, io penso che non sia una manovretta nella misura in cui siamo tornati a parlare di questioni come il cuneo fiscale, come le nuove politiche, diciamo, dal punto di vista occupazionali, il reddito di cittadinanza, l'Italia del domani. Insomma, una manovra che interroga in modo così ampio la politica e l'opinione pubblica, evidentemente non è una manovretta. Poi è certamente migliorabile, ancora per esempio penso alla proroga del super bonus, ai crediti, a tante cose, insomma, su cui chiaramente c'è ancora molto da fare. Però, così, in linea di massima, mi pare che non si possa esprimere un giudizio da cartellino rosso ora, considerando che comunque il governo sia insediato da pochissimo. Ecco, De Peppo, vengo da lei perché mentre alcuni dell'opposizione asseriscono una Giorgia Meloni lontana dai veri problemi del paese, dall'altra parte abbiamo visto una Giorgia Meloni invece che si è avvicinata molto ai desideri dei cittadini, creando questa rubrica che ha avuto molte polemiche, cioè la Giorgia Meloni col diario di bordo che legge le cose che ha fatto in questi primi mesi, in queste prime settimane, a partire appunto, come diceva la collega Stea, dal super bonus, dal 110 al 90%, e ancora il reddito di cittadinanza che sparirà tra meno di un anno e ancora poi tutta la polemica, ne parleremo tra poco, fra l'aumento del contante, si gioca con i numeri all'otto, 10 mila con Salvini, poi in realtà si scende a 5 mila, e poi ancora i pagamenti con il famoso post, insomma, tutta una materia che però la Meloni ha portato in scena, quindi in maniera un po' più popolare. È una strategia, secondo lei, direttore, o in realtà è perché ha capito che forse si stava allontanando dai desideri concreti del paese? No, è una strategia di comunicazione vincente. La buona notizia è che finalmente, due mesi dopo le elezioni, Enrico Letta è sceso dalla montagna e si è tolto l'abito da comandante partigiano e cerca di capire quali sono i problemi della nazione. Certo, i problemi della nazione non si risolvono con i panicelli caldi che propone lui, non si può dire che con il tetto al contante aumentato si favorisce l'evasione fiscale, anche perché giorni fa l'Unione Europea ha emanato una disposizione per la quale nei paesi UE c'è un tetto massimo del contante di 10.000 euro, quindi ben oltre i 5.000 euro verso i quali sta andando il governo italiano. Hanno avuto diversi governi la possibilità di aggredire l'evasione fiscale e pochissimi si sono resi conto che il vero problema, e questa non è una giustificazione, attenzione, è che se in parallelo non si interviene sulla diminuzione delle tasse, in particolare alle imprese, noi il problema non lo elimineremo del tutto subito, quello dell'evasione fiscale. Perché in tantissimi casi, e questa non è una giustificazione, perché poi ci sono anche quelli che delinquono, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così, quindi bisogna intervenire sia in una riduzione sostanziale delle tasse e soprattutto poi a una lotta seria all'evasione. In questione non è stato fatto. Però Giorgio Meloni più volte ha dichiarato e acclarato che per esempio in altri paesi europei non esiste minimamente questa misura del tetto massimo del contante. Ma io lo dissi già, credo, in una tua puntata, quando sottolineai che in alcuni paesi come la Francia, in Germania, ci può essere un tetto massimo di 10.000, 15.000 oppure non esserci. Prendiamo anche gli Stati Uniti dove non c'è un tetto massimo. Per questo la Meloni dice giustamente che l'unico modo per poter stanare l'evasione fiscale è quella di ampliare di più la fetta del contante. E credo che io, a mio parere, sia senz'altro un fattore positivo. Vorrei aggiungere che, a proposito della manovra di cui avete già iniziato a parlare, che la realtà attuale di un'opposizione che anziché fare una posizione costruttiva diventa sempre un'opposizione, sempre di aggressione nei confronti di un governo che è nato da pochissimo. I frutti si vedranno fra qualche anno perché la legge di bilancio, a parte il fatto che ci sarà la firma del Presidente della Repubblica e poi ci sarà la votazione della Commissione Europea. Non dimentichiamo che noi siamo anche soggetti a quelle che sono le regole dell'Unione Europea per quanto riguarda i bilanci di ciascun Stato membro dell'Unione. Quindi io sono, devo dire la verità, a favore del contante. Oltretutto sono d'accordo con Ferrante quando dice che bisogna comunque abbassare una marea di tasse perché abbiamo tante tasse inutili, addirittura tasse obsolete di 70-80 anni fa. Immaginate anche sul caro carburante dove abbiamo ancora la cissa della guerra di Etiopia, del Vaiolo e così via. E allora andiamo sulla ricostruzione dell'aumento del contante e della questione del post. Che cosa succederà? Andiamo. Il Partito Democratico si batterà per la difesa del potere d'acquisto dei redditi, per la sanità e la scuola e chiederemo l'eliminazione dei condoni e delle norme supposse contante. Tutte le operazioni fiscali e quelle relative al contante determinano di fatto un'apertura a manovre illegali che peggiorano la condizione di chi già è in disagio. Se vogliamo far utilizzare la moneta elettronica bisogna fare dell'altro, delle altre misure. Quindi guardiamo allora un po' a quelle che sono le commissioni bancarie eventualmente, allora ragioniamo e quindi facciamo un ragionamento sulle commissioni bancarie in modo tale che il post lo possono tenere tutti gli esercizi commerciali e i cittadini possono utilizzare il post come vogliono. Ed è evidente che un provvedimento come quello di aumentare il tetto del contante a 5.000 euro quando hai 5 milioni di italiani che non arrivano a 10.000 euro all'anno lavorando, è uno schiaffo in faccia a chi il reddito fatica a farlo e non arriva alla fine del mese. Allora Stea, vengo subito da lei e poi vado da Ferrante. Allora la questione è ben chiara, abbiamo ascoltato alcuni commenti di alcuni parlamentari, alcuni esponenti. Allora è chiaro che si deve un po' sviscerare la materia della manovra della legge di bilancio. C'è chi, come abbiamo sentito il senatore Damiani da Forza Italia, dice allora andiamo a capire meglio la questione delle commissioni bancarie perché sembrerebbe che c'è un malcontento nel nostro paese perché utilizzando spesso le carte di credito le banche si arricchiscono dietro tutto questo sistema. E poi c'è l'augmento del contante, come abbiamo sentito, una forte opposizione che dice ma come, la gente non ce la fa ad arrivare alla fine del mese che stiamo pensando a come aumentare il contante, ma chi ce li ha tutti questi soldi? Forse soltanto per agevolare quella categoria di gente che in realtà è considerata una casta, cioè i ricchi? Sai Manila, a me queste affermazioni fanno sempre un po' paura. Noi siamo giornalisti e quindi abbiamo anche un po' il dovere di offrire anche un linguaggio che sia diverso. Ecco, a me le parole di alcuni politici, devo dire, mi lasciano perplessa perché di fatto armano le piazze, infiammano la folla. Dire ci sono tante famiglie che non arrivano a 10.000 euro all'anno è verissimo ma non può essere un argomento da addurre in questa circostanza perché stiamo parlando di un'altra storia. In questo caso, quando si parla, per esempio Damiani diceva, secondo me è una posizione più che ragionevole perché è concreta, vogliamo utilizzare il post, rivediamo le commissioni bancarie perché se no di fatto poi il piccolo esercente si trova ad essere penalizzato perché di questo stiamo parlando. Allora, non serve, ecco, tutto il resto è demagogia ma è demagogia pericolosa che poi ha dei riverberi di cui ormai in questi giorni le cronache sono piene le minacce alla Meloni, un conflitto sociale che in realtà non ha ragion d'essere su questo perché nessuno, il fatto del tetto al contante, non c'entra nulla con le famiglie che non arrivano a 10.000 euro al mese insomma, mi pare che probabilmente ci sia un grado di scarsa responsabilità ecco, nella comunicazione da parte di alcuni. Sono in parte d'accordo, il tetto al contante è un falso problema in Italia e lo dico in maniera forse anche demagogica, ci sono così tanti problemi che vanno risolti che sinceramente, parlare, ascoltare ore e ore di questo argomento è veramente una cosa che parlava della riduzione del cuneo fiscale e questo governo alla fine, magari uno potrà dire la montagna ha partorito il topolino ma uno spiraglio si è aperto, cioè oggi di qualcosa si parla quindi per me, onestamente, non sento di condannare o di sminuire mi sento di apprezzare però De Peppo, vengo da lei perché c'è chi dice che Giorgia Meloni durante la campagna elettorale mentre aggrediva verbalmente Conte che sembrava utilizzasse lo strumento del reddito di cittadinanza per recuperare voti, lei rimaneva in silenzio e aveva detto più volte in campagna elettorale che non l'avrebbe abolito poi, quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti invece la Giorgia Meloni, il premier, decide di abolirlo alla fine del 2023 è vero perché Giorgia Meloni ha detto in tutte le salse che avrebbe abolito o profondamente rivisto il reddito di cittadinanza però tra rivederlo e abolirlo, direttore ma qui non è abolito perché viene rivisto solamente per la fascia degli occupabili nel 2023 viene ridotta la pletia dei beneficiari cioè anche qui, secondo me, la Meloni sta dando un imprinting valoriale e allora stea, perché quel ragazzo che è stato preso dalla polizia postale quel ragazzo di 27 anni che si è scoperto poi essere colui che ha mandato quei messaggi dietro falso profilo voleva difendere in maniera ovviamente errata quelle minacce orribili che ha fatto nei confronti di Giorgia Meloni qual è la preoccupazione di quel ragazzo, secondo lei? è quella di non percepire più un reddito senza lavorare ora, io ci tengo però a dire una cosa il reddito non verrà abolito qui, diciamo, si immagina una foto dell'Italia c'è chi vuole un'Italia in cui chi non può lavorare disabili, anziani, famiglie indigenti con figli a carico, eccetera, eccetera chi non può lavorare continuerà a ricevere il reddito di cittadinanza chi può lavorare andrà a lavorare ora si pone il problema in Italia il lavoro non c'è bene c'è da dire però dobbiamo anche dire se la Meloni decide che vuole reintegrare quei 650.000 percettori che usufruiscono del reddito di cittadinanza la domanda che viene spontanea è saremo in grado di offrire porti di lavoro visto che l'Italia è tra i primi paesi in Europa ad avere alto tasso di disoccupazione nella manovra è prevista la decontribuzione totale per l'impresa che assume un percettore del reddito di cittadinanza ora però vorrei fare velocemente un passo indietro qualche giorno fa, proprio qui, ne parlavamo tre quarti, non ricordo le cifre totali dei percettori del reddito di cittadinanza in Puglia non sono andati a sottoscrivere il patto l'accordo prezzo ai centri per l'impiego che chiaramente non funzionano siamo d'accordo in Puglia poi abbiamo il problema dell'ARPA è tutto, voglio dire, cronaca però anche questo è un dato allora se io percepisco il reddito e non vado nemmeno a sottoscrivere il patto evidentemente non ho così tanto interesse ad andare a lavorare non vanno perché sono, come dire, facili del fatto che hanno ottenuto già il reddito e chi se ne frega su questo mi perdonerei tu e chi ci sta ascoltando ma sono proprio radicale su questo vado oltre la Miloni io sono convinto da tempo che il reddito di cittadinanza così come è stato impostato è stato un totale fallimento io ti dico solamente un dato prima parlava un leader l'ex leader della FIOM credo parlava di milioni di famiglie in difficoltà è vero io attuerei un welfare che assolutamente non è questo quello attuato dal Movimento 5 Stelle un welfare europeo diverso bisogna aiutare veramente chi ha bisogno io dico solamente una cosa perché tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando la pensano ne sono convinto io vengo da un territorio dico pugliese ma in particolare dell'Altamurgia ma penso che sia una cosa diffusa c'è una emergenza di posti di lavoro a questo punto io devo pensare che in Italia abbiamo disoccupazione zero non so se rendo l'idea c'è una richiesta da parte delle imprese non a nero con tanto di contratto pagate profumatamente che non riescono a trovare allora mettiamoci d'accordo c'è un problema serio De Peppo vengo da lei i 650 mila come dire perdenti i percettori che perderanno questo strumento saremo in grado di offrire il lavoro che dice Ferrante avallato da Stea dobbiamo provarci dobbiamo vedere con una politica di decontribuzione con una politica che utilizzi finalmente i fondi europei per la formazione perché molti di questi non hanno un livello di scolarizzazione un livello di formazione diciamola tutta la legge però De Peppo se quel ragazzo dice quelle cose orribili nei confronti della Meloni è colpa di chi quello strumento lo ha creato e lo ha regalato sbeffeggiando quella mancanza di lavoro che diceva Ferrante ora quel ragazzo ha avuto quelle esternazioni gravissime perché evidentemente faceva comodo prendere un sussidio senza fare nulla rimanendo sul titano di casa Manila voglio aggiungere una cosa che mi permetti la cosa più grave e di questo sono convinto si è instillato nella testa degli italiani per la prima volta l'idea che tu puoi non lavorare e percepire qualcosa devono essere aiutate realmente le persone che hanno bisogno questo è il frutto dell'ideologia della prima ora di Grillo Casaleggio della decrescita felice in cui tutti dovevano stare a casa non dovevano lavorare e dovevano essere felici così sostenuti dallo Stato perché è esattamente questo il problema in questa fase secondo me più che perché comunque il reddito non verrà abolito continueranno a percepirlo tutti coloro che effettivamente non sono nelle condizioni di andare a lavorare e questo è fondamentale bisogna dirlo ripeterlo perché purtroppo c'è chi sta utilizzando questo argomento per irrorare il terreno dello scontro dello scontro sociale ci sono semplicemente ragazzi trentenni io la cosa veramente che mi fa male vedere ragazzi trentenni trentacinquenni nelle piene forze di lavoro che dovrebbero essere dei vulcani che percepiscono il reddito di giardinanza e quando ci sono imprese tantissime imprese che cercano lavoratori è pazzesca questa cosa scusate mi devo soltanto fermare per 120 secondi e riprendiamo il dibattito da dove l'abbiamo appena terminato a tra poco ben ritrovati nella seconda parte del punto in questo mercoledì sera argomenti davvero molto importanti dove stiamo attenzionando il focus è sulla manovra la legge di bilancio di Giorgia Meloni che fa molto discutere soprattutto perché l'opposizione dice che in realtà è stata una manovretta che in realtà non sarà sufficiente a sopperire ai tanti problemi che in questo momento il nostro paese sta affrontando soprattutto per la crisi energetica i ripercussioni della guerra eccetera eccetera vado un attimo da Giuseppe Pacione vengo da lei Pacione perché la questione del reddito come strumento dicevamo prima adesso sarà revisionato Giorgia Meloni dice che sarà destinato a chi davvero non può lavorare ed è tra virgolette fragile ma dobbiamo preoccuparci che questo strumento lo perderanno tante persone abbiamo visto le minacce di questi giorni di questo ragazzo che è stato poi insomma preso dalla polizia postale che ha fatto delle accuse gravissime nei confronti di Giorgia Meloni beh è ovvio allora prima di tutto il governo Meloni sta seguendo la raccomandazione che è stata emessa dalla commissione dell'Unione Europea che ha parlato di un reddito di sussistenza che è fondamentale quindi l'obiettivo del governo è quello di rimodulare l'attuale reddito di cittadinanza seguendo appunto le raccomandazioni della commissione europea secondo primo punto secondo punto non è detto che il governo non vuole assolutamente che i cittadini non debbano vivere o sopravvivere anzi il governo è lì per risolvere i problemi soprattutto per coloro che fino ad oggi hanno percepito e continuano a percepire il reddito di cittadinanza offrendo delle opportunità di lavoro voglio ricordare che abbiamo il cosiddetto PNRR che comunque sta favorendo di cui la stessa Meloni ha chiesto all'Unione Europea anche di rivedere questo piano operativo di finanziamento nei confronti del suo paese soprattutto nei confronti di coloro che non percepiscono il lavoro quello che non capisco ad esempio è giustamente quello che ha sottolineato il collega Ferrante ad Altamura nell'Altamurgia l'Altamura è un paese ricchissimo ci sono imprenditori che sono senza operai come mai non ci sono ad Altamura per settori per settori di reddito di cittadinanza che non vanno a bussare ad esempio all'imprenditore X e dire ho bisogno di lavorare pur sapendo che fra qualche anno il reddito di cittadinanza però su questo si apre tutta una materia Ferrante dove dobbiamo anche dirlo ok lei diceva prima i contratti di lavoro vengono posti in essere quindi effettivamente questa è una piaga del nostro territorio soprattutto a sud dove i ragazzi diciamolo un po' come stanno le cose si sono accomodati perché hanno avuto il famoso strumento del reddito di cittadinanza però diamo lavoro diamo contratti bisogna vedere anche quali garanzie perché molto spesso i ragazzi hanno fatto due pesi due misure cioè io perché devo andare a lavorare se devo prendere gli stessi soldi stando a casa sul divano è anche vero che ci sono tantissimi ragazzi tantissimi ragazzi che rifiutano ciò che un tempo era proprio un must era quella della gavetta della gavetta attualmente i ragazzi di oggi che sono splendidi molto meglio di quando io ero più giovane però manca questa sorta di spirito di sacrificio che non significa non avere un contratto regolare significa anche che tu inizi a lavorare e pian piano fai la tua carriera io sto veramente lancio un grido d'allarme ci sono migliaia di aziende pugliesi e artigiani con partita IVA che hanno bisogno di lavoratori ribadisco io non considero quelli che pagano a nero non li considero proprio non mi interessano con regolare contratto aziende anche SPA aziende serie che non riescono a trovare dei lavoratori quindi la colpa è perché questi lavoratori devono essere assunti con ripeto prima un salario che non è conforme alle aspettative di chi quel lavoro lo deve intraprendere Stea allora è vero che il mercato del lavoro in Italia e anche probabilmente la contrattazione collettiva va rivista però è una questione di filosofia cioè io ho lavorato i primi due anni la famosa gavetta per avere il tesserino ora sono professionista da pubblicista all'epoca io ho lavorato gratis è chiaro magari non è facile non tutti possono farlo però è la famosa gavetta di cui parlava il collega ora però quello che mi preoccupa è la filosofia della società di adesso di questi ragazzi ovvero io ho visto tante immagini in questi giorni interviste c'era per esempio un padre di famiglia percettore da reddito che aveva ricevuto diverse proposte di lavoro siccome lo stipendio non era all'altezza dei suoi desiderata diceva che lui preferiva stare a casa perché passava così più tempo con le figlie ora possiamo pagare qualcuno per fare il babysitter dei suoi figli a casa per me non è possibile quando peraltro abbiamo le pensioni minime da rivedere i disabili abbiamo per esempio in Puglia guardate gli assegni di cura le pensioni di invalidità che sono bassissime ogni anno la regione deve stanziare soldi e arrivano sempre in ritardo cioè noi abbiamo comunque delle emergenze vere di chi soffre di chi non arriva a fine mese di chi non ce la fa a cui uno stato serio deve dare delle risposte anche una regione seria allora è chiaro che tra supportare e sostenere chi effettivamente non può lavorare è dare il reddito a qualcuno per stare a casa con le figlie franca non va bene De Peppo ma come dobbiamo De Peppo vengo da lei come dobbiamo misurare e valutare Giorgia Meloni su questa manovra o come detto da qualcuno dobbiamo aspettare le prossime perché questa in realtà come dire è un po' una manovra nella terra di mezzo guarda io sai che ho sempre avuto la passione dei motori nelle auto il motore di avviamento non ha il massimo della potenza però serve per innescare accendere accendere il motore dell'auto e farla partire questa manovra è il motore di avviamento vediamo quali risultati porterà al momento non si può dire né bene né male però io vorrei aggiungere una cosa voi avete parlato più volte di questo ragazzo di 27 anni che ha denuncia che ha minacciato di morte la Meloni ora secondo me paradossalmente questo ragazzo è una vittima perché chi andrebbe messo sul banco degli imputati sono i cattivi maestri gli intellettuali i giornalisti chi fomenta la piazza ha ragione in televisione dalla mattina alla sera fanno il plotone di esecuzione democratico contro questo governo magari non voglio giustificare quel ragazzo o stiamo anche a ragione il direttore De Beppo chi ha fatto credere e chi ha voluto quello scurmento perché in quella maniera noi abbiamo dato un messaggio diseducativo e quindi quei ragazzi dicono adesso tu me lo stai togliendo io ti vengo ad ammazzare tua figlia non è perdonabile ed è giusto che quel ragazzo venga condannato per le cose che ha detto nei confronti della Meloni ma poteva essere chiunque altro perché per quanto mi riguarda però c'è chi c'è chi quella politica di quel periodo che ha voluto quel reddito quello strumento e poi lo ha fatto rendere come se fosse stato tutto normale tutto facile tutto veloce quindi uno dice e adesso e adesso c'è che io ti minaccio certo non è giustificabile però ha ragione De Peppo è così hanno armato le piazze hanno errorato lo scontro hanno infiammato gli animi con un atteggiamento irresponsabile lo dicevamo prima non è anche perché anche perché io voglio ricordare a tutti che questo questo reddito di cittadinanza viene pagato viene pagato da chi paga le tasse cosa voglio dire può sembrare un discorso retorico ma è così io pago le tasse e voglio con tutto me stesso che parte delle mie tasse vadano realmente a chi ha bisogno non vada a lanciare un messaggio diseducativo come hai detto tu a un ragazzo di 30 anni nel pieno delle forze lavorative e li faccio capire guarda puoi stare a casa sul divano e non puoi andare a lavorare quando c'è un pensionato che prende 600 euro al mese e non torneremo su questi argomenti come sapete il tempo a disposizione di questa striscia velocissima è finito ma io ovviamente tornerò domani sempre alla stessa ora grazie per aver accettato il mio invito all'editore il tag.it complimenti per questo bellissimo lavoro che portate avanti Antonio Ferrante vi seguo grazie anche alla mia collega Federica Stea mi torni a trovare con piacere e grazie a Giuseppe Pacione eccolo qui grazie a voi io vi lascio alla programmazione della rete con Antenna Sud e noi ovviamente ci rivediamo domani sera per un'altra puntata insieme buona serata grazie a tutti